Uomini e donne, un corso diverso, un corso che non c'era, un corso che ho avuto un'ispirazione quando ho pensato di creare questo corso e l'idea mi è nata dall'osservazione di determinate dinamiche nel corso della mia vita professionale, della mia vita personale, nel corso di tutti i seminari che ho fatto nello svolgimento di questa attività e mi sono accorta che effettivamente uomini e donne parlano lingue diverse e pensano in realtà di parlare la stessa lingua fondamentalmente si utilizzano canali diversi, canali diversi che spesso cozzano tra loro creando delle situazioni di conflitto, quello che vorrebbe fare questo corso è aiutare le donne a capire come gli uomini non riescano a sentire, a parlare, ad agire come fanno loro e aiutare gli uomini a capire che le donne non riescono a parlare, ad agire come fanno loro, ci sono dinamiche diverse, canali comunicativi diversi, modi di percepire la realtà attorno a sé diversa, riuscendo a comprendere questo sono convinta che i migliori rapporti interpersonali all'interno della coppia con il proprio partner ma anche con gli amici di sesso diverso, anche eventualmente con collaboratori di sesso diverso. Speriamo di riuscire a portare una luce di speranza in quelli che possono essere i rapporti tra gli uomini e le donne.